Storia Veneta in Villa. Cinque incontri in ville del Padovano. Per raccontare la storia in villa, abbiamo parlato d'architettura e la villa, economia e la villa, il governo del territorio padovano da parte dei patrizi veneziani, perché vogliamo capire come mai è nata questa civiltà di villa da parte di un sicuramente assetto politico lungimirante che ha creato uno degli stati più incredibili della storia europea, come era la Repubblica di Venezia. Patrizzi in villa, forse cambierei il titolo di questo incontro e direi Venezia e il suo entroterra. Infatti i patrizi altro non sono che una classe sociale che in realtà è a tutti gli effetti dipendente dalla Repubblica e sono delle regole severissime quello di questo ordinamento repubblicano di cui purtroppo si parla poco, si parla piuttosto dei fenomeni, delle espressioni di questa società o di questa civiltà, ma non delle regole costituzionali. Quindi ricondurrei il nostro discorso all'inizio allo Stato, alla Repubblica. È un incidente gravissimo del 1509 quando il Papa, il Giulio II, il celebre Papa della Rovere che teneva la corazza sotto il mantello pontificale, perché Giulio Cesare era il suo modello mentale e culturale, indice una riunione di tutti i principi cristiani per fare una crociata contro l'impero ottomano. Queste crociate venivano generalmente concepite in ottica antiveneziana, nel senso che per fare una crociata Venezia avrebbe sopportato il massimo sforzo militare perché forniva la flotta e poi alla fine di questo scontro militare avesse vinto o perso Venezia, Venezia rimaneva esposta al contraccolpo turco su tutti i suoi possedimenti nella Mediterranea orientale. Quindi Venezia non manda nemmeno i suoi ambasciatori e i suoi delegati a questo incontro convenuto del Papa. La mossa del Papa era calcolata, in realtà la riunione era per riunire tutti i principi cristiani contro Venezia. E si crea un'alleanza che se uno la rappresenta sulla cortina geografica e la cartina geografica dell'Europa stessa, salvo un bollino che è Firenze, che per qualche sua ragione politica si astiene da questa alleanza. Le armate di tutta l'Europa, ma principalmente quelli dell'imperatore Massimiliano, attaccano i territori della Repubblica di Venezia. All'inizio di questo scontro c'è una rotta, una sconfitta micidiale dell'esercito veneziano a Giara d'Adda e praticamente c'è un crollo del sistema veneziano. Machiavelli si chiede perché Venezia non abbia ulteriormente reagito militarmente. E le armate di Massimiliano invadono tutta la terraferma veneziana e si accampano sui bordi della laguna. Da Venezia si vedevano i fuochi dei suoi accampamenti. Gli incisori tedeschi facevano incisioni in cui si vede un leone affannato che nuota per ritornare sulla sua barchetta, la sua culla Venezia. Di qui comincia un contrattacco veneziano, diventato doge dopo da Andrea Gritti, un personaggio molto energico, umanamente grandioso e politicamente molto forte, che riconquista la città di Padova. Riconquistati attraverso altre operazioni militari, ma soprattutto la potenza finanziaria, Venezia poteva sorreggere una guerra per tempo più lungo di tutti gli altri stati perché aveva risorse finanziarie maggiori, Venezia riconquista nel corso degli anni, di una decina d'anni, tutti i suoi territori. Però si pone una domanda cruciale. Qual è una delle cause maggiori e determinanti di questo collasso della difesa veneziana? Questo sta nel fatto che Venezia, nell'acquisire con la sua egemonia finanziaria e politica, gli altri, come si può dire, città-stato, Vicenza, Verona, Brescia e robe del genere, al suo territorio, aveva lasciato a ciascuna di queste comunità i suoi statuti medievali e le sue legislazioni. E la difesa era lasciata ai signori feudali che avevano titoli feudali e castelli e che, in cambio delle loro prerogative, avevano l'obbligo della difesa del territorio. Vedendo arrivare le armate imperiali, i nobili feudali della terraferba veneziana in realtà ammainano la bandiera di San Marco e issano quella dell'Aquila a due teste degli Asburgo. Perché questo? Perché nel secolo precedente di dominazione veneziana, chiamiamolo così, anche se, come dico, la tolleranza verso i regimi antichi era stata estrema, l'unica attività effettiva che Venezia esercitava sui territori annessi era quella della giurisdizione, l'esercizio della giustizia. E in questo senso Venezia era maestra, da un certo punto di vista, in molte delle sue autorappresentazioni dal Medioevo in avanti si rappresenta come la giustizia, seduta sul trono salomonico con la bilancia e la spada, tutti gli emblemi della giustizia. Non aveva mancato e non mancava di reprimere i nobili feudali che esercitassero angherie o soprusi sulla popolazione. Cioè giocava abilmente fra il peso politico della popolazione e il peso politico di questa aristocrazia e utilizzava l'uno e l'altro, l'uno contro l'altro, per mediare questi poteri. Quindi i nobili feudali che si erano sentiti defraudati di prerogative medioevali perché in loro era rimasta integra la cultura medioevale, passano dall'imperatore sperando di riottenere con questo gli antichi privilegi. Non ha altro provvedimento Venezia e questo secondo me è un fatto molto importante di cui si tiene poco conto che intervenire drasticamente contro la nobiltà feudale distruggendo quasi tutti i castelli che punteggiavano il Veneto. I castelli che si vedono nei quadri di Bellini, di Bartolomeo Montagna, di cima da Canagliano in cima, i colli erano veri, erano dei ritratti di castelli che ora non ci sono più. Non solo fa questa pulizia di un ordine antico ma tende a istituire nei territori un nuovo ordine repubblicano. Ma vediamo prima di far questo quali sono le mosse di capitale importanza. Istituisce due magistrature, una era già preesistente in realtà il magistrato alle acque, mette in moto questa magistratura, il magistrato alle acque e porta quasi a compimento la reggimentazione di tutti i fiumi del territorio e naturalmente nel far questo attrezza tutti i fiumi perché siano delle vie navigabili, col che connette molto meglio tutto il territorio attraverso queste vie navigabili alla Raguna, a Venezia, a Rialto, ai mercati stessi di Rialto per tutte le possibili produzioni agricole. Dopo attraverso un'altra magistratura che si chiama il magistrato dei beni inculti, che viene espressamente costituito, una magistratura per i beni non coltivati, mette a bonifica tutte le aree immense nel Veneto che erano degli acquitrini perché i fiumi non reggimentati continuavano a esondare e allagare le campagne. Col che crea un nuovo suolo agricolo che prima non esisteva di straordinaria importanza. Cresce dunque il valore economico e simbolico della campagna, della villa, rispetto al valore simbolico del colle sopra cui vivevano i nobili che non sanno come autorappresentarsi perché sono stati in qualche modo condannati dalla storia e il Giangiorgio Trissino, il patrono di Palladio, è una delle persone che soffre addirittura con l'esilio questa severità della Repubblica che crea contemporaneamente una rivoluzione culturale introducendo dei principi repubblicani, una rivoluzione fisica ristrutturando e riorganizzando l'assetto fisico del territorio e una rivoluzione produttiva mettendo a cultura tutti questi immensi territori. Quindi c'è proprio una diversità di veduta da parte di Venezia di tutta la sua concezione dell'entroterra. Basti pensare che pochi decenni prima, nel 1510-20, rappresentare il territorio agli occhi dei veneziani era un artista come il Ruzzante che parlando in pavano diceva tutta la fame e la povertà. Adesso invece c'è una vera e propria operazione politica di ridefinizione del ruolo della terra ferma che Marx, un autore che non viene più citato, definisce la prima grande rivoluzione agraria dell'epoca moderna nel mondo. A questa Venezia accompagna naturalmente una ridefinizione dell'assetto difensivo dello Stato attraverso la competenza del Conte Leonardi che era un ambasciatore del Duca d'Urbino ma un grande specialista di fortificazioni e di tecniche militari e di Michele San Micheli, l'architetto, suo ingegnere alle fortezze. Nuovo sistema difensivo concentrato su quattro poli, grande ridefinizione geografica, la costruzione della villa intesa come campagna, come nella parola antica, la regimentazione dei fiumi, l'eliminazione di una cultura feudale. Ecco questo è il terreno di cultura su cui poi crescerà la civiltà di villa. Capita che gli stessi nobili feudali, seguiamo quelli di Vicenza perché il culmine stupendo della architettura di Palladio rende la provincia di Vicenza forse l'area campione più interessante per considerare il fenomeno della villa. I nobili feudali per una generazione intera praticamente dal 1510 fino al 1540, insomma 30 anni, 40 anni, non sanno più come autorappresentarsi. L'immagine del loro potere nel territorio era dato dall'essere sulle alture, da avere torri, merri, mura di cinta, fossati di difesa, cioè questa autorappresentazione della forza, come in termini edilizi la corazza di Giulio II. Questo non possono più farlo perché i loro castelli sono stati distrutti e sarebbe stato più che antipolitico, intollerabile per le magistrature della Repubblica che altri riproponessero quel modello. La nobiltà feudale cade in una forma come dire di afasia, non si riesce più ad esprimere. Seguiamo un momentino le prime architetture di Palladio, di Villa, partendo naturalmente dalla sua collaborazione con Gian Giorgio Trissino, che è il suo mentore vicentino, e dal clima erudito, colto, raffinato che il Trissino comporta con sé. Si dice spesso, anzi sempre ormai è quasi una convinzione codificata che il nome di Palladio gli sia dato perché sarebbe il nome dell'angelo che guida l'esercito di Belisario che vince i Goti, ma invece probabilmente è il nome di un teorico romano, Palladio Rutilio, che scrive un trattato il cui titolo è De Villa, dove villa vuol dire campagna. E dice il Palladio Rutilio che nell'andare nelle campagne, Palladio Rutilio cioè evoca la fase, la grande fase della storia repubblicana in cui Roma comincia ad espendersi nel territorio e a creare i suoi insediamenti di villa, il signore non deve spendere più di due volte il reddito annuo dei suoi possedimenti. Cioè l'approccio alla terra è un approccio economico, si privilegia l'aspetto produttivo del suolo e l'investimento deve essere economico. Nel Veneto questa promozione della produttività del Veneto avviene con dei criteri molto particolari e interessanti perché un segretario del Consiglio dei Dieci, vedete che tutto si riconduce sempre al luogo centrale del potere che è il Palazzo Ducale, aveva raccolto e raccoglieva tutte le relazioni degli esploratori che rientravano dall'America e con questo tutta la nozione di tutte le culture americane che erano completamente sconosciute in Europa. C'è quindi un vero e proprio boom di produzione agricola a cui fa seguito un corrispondente boom di sviluppo demografico. Questo è un momento epocale della storia del Veneto, della storia del nostro territorio, un momento che praticamente ha durato con la sua efficacia fino a forse al secolo scorso, fino alla metà del secolo scorso, cioè con gli inizi dell'industrializzazione. A questo punto, dicevo, i primi nobili, anche quelli di famiglia feudale, scendono al suolo e si costruiscono le prime case. Prima mi ricordavi la villa Saraceno, è un esempio di queste case piccole ed economiche che il cui costo non è più di una o due o tre volte il costo del raccolto del possedimento, che in quel caso gli Angarano, no, Saraceno avevano in quell'ambito. Oggi che siamo attratti dalla bellezza di questi edifici, cioè dalla qualità linguistica della loro composizione, dall'armonia degli spazi che sono progettati in maniera proporzionale da Palladio, si tende a non vedere l'aspetto rivoluzionario e radicale di queste costruzioni. La rivoluzionarietà sta nel fatto che sono indifendibili, cioè sono esattamente l'opposto del castello antico. Sono in aperta campagna, non in cima a un cucuzzolo, sono prive di mura di cinta, sono prive di torri, devono essere prive di torri, sono prive di fossati, cioè sono indifendibili e per di più hanno generalmente, ma direi sempre, delle logge che quasi creano una compenetrazione tra l'esterno e l'interno dell'edificio. Solo la qualità linguistica distingue la qualità, per così dire, del ceto, del committente. È come se in questa operazione la cultura, attestata prevalentemente da riferimenti a prototipi romani delle architetture antiche, sostituisce la rappresentazione della forza, cioè la cultura, la modernità, diciamo, è un po' difficile usare la modernità con questa parola per cose avvenute secchi, è l'attestazione della dignità di classe del Signore. La metamorfosi fisica, di cui abbiamo detto, la metamorfosi produttiva, la metamorfosi difensiva del territorio comporta anche una mutazione del ruolo del Signore della società. Deve avere cultura, erubizione, non deve e non può usare la forza come attributo della sua superiorità sociale. Questo è il grande motore concettuale della villa. Se mi consentite di fare un salto in avanti, il grande successo di Palladio, ma del modello della villa di cui Palladio poi diventa il protagonista nei modi che sappiamo e che cercheremo di dire nei paesi anglosassoni, è perché la matrice di questo fenomeno è repubblicana. Il ricupero del linguaggio romano, diciamo così per semplificare, come lo sa fare Palladio, è privo di qualsiasi riferimento sia alla Roma dei papi, cosa che una cultura anglosassone non avrebbe potuto accogliere, nel caso specifico gli inglesi si erano separati già dalla prima metà del Cinquecento dalla Chiesa romana, né alcun riferimento alla politica imperiale di Roma. Quindi era un modello di antico depurato da quelle componenti ideologiche che la società attesa alla modernità non avrebbe accolto. Ed è così che dall'Inghilterra questo modello si trasferisce negli Stati Uniti e diventa fondativo degli Stati Uniti in una stagione storica, che anche questa stiamo dimenticando o abbiamo dimenticato, in cui l'aspirazione dei governanti e dei presidenti degli Stati Uniti è di fare di quel continente una potenza agraria. Loro esecravano l'ipotesi che potesse diventare una potenza industriale, perché già a Londra vedevano con grande preoccupazione i fenomeni di proletariato, di rivolta, di tensioni sociali che l'industrializzazione produceva. Quindi il modello della rivoluzione agraria, interpretato da chi ha saputo depurare l'insediamento agrario da ogni riferimento papalista o imperiale all'antico, è quello che determina la grande diffusione negli Stati Stati Uniti, diciamo per dirla tutta, del modello palladiano. A me pare che questa essenza, che è insieme una lezione storico-politica, che trova una perfetta declinazione in termini culturali e artistici, sia il fondamento del fenomeno della villa. Perché su questo territorio così ridefinito nelle sue infrastrutture, dalle magistrature veneziane, intervengono poi con una complementarietà che è quella stessa che il Patrizio ha con i suoi organi di governo, i privati, ognuno dei quali acquisisce una parte di campagna, generalmente di terreni mai prima coltivati, la bonifica, la mette a cultura, porta quelle culture che abbiamo detto, introduce quelle culture che sono state importate dall'America e crea un'azienda. Di modo che la presenza del Signore in villa non è soltanto quella presenza di un uomo nuovo culturalmente, politicamente, che abbiamo detto prima, ma di un uomo che assume in sé la funzione, più che del Signore dell'imprenditore. Ed è qui una delle matrici della straordinaria imprenditorialità diffusa che ancora oggi vediamo nel Veneto. Secondo me queste componenti storico-politiche, sociologiche, sono la grandezza di questo episodio storico per l'Europa, che Venezia ha saputo sportare nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti, che però è stato preso anche da Caterina di Russia, nelle colonie britanniche e in tante altre parti del mondo. La villa ha naturalmente qualche precedente di carattere umanistico, perché Petrarca sapeva bene cosa era la villa per i romani, ma è una cosa elitaria. Erano delle persone che si separavano dalla città, da un contesto urbano, dalle tensioni sociali e politiche di un contesto urbano, per trovare in villa una maggiore concentrazione, una maggiore possibilità di esercitare il trifone Gabriele a Padova. Insomma, potremmo citare molti di questi intellettuali, ed anzi sarebbe interessante coordinare un po' con la lettura di questi personaggi all'interno del fenomeno. Ma la villa, come la diciamo, come insediamento in campagna, in villa, cioè antifeudale per natura, indifeso di imprenditori che bonificano i loro terreni e li mettono a cultura, è un fatto straordinario. Come nella riviera del Brenta, la somma delle piccole attività degli scarpari ha creato un fenomeno di produzione nel campo delle calzature che ha avuto dignità europea, se non addirittura mondiale. Questo secondo me è l'aspetto su cui bisognerebbe oggi insistere, lavorare meglio, capire di più. Poi ciascuno si muove nell'ambito delle sue competenze specialistiche. Chi studia meglio il sistema della difesa e l'organizzazione militare del Cinquecento, chi studia meglio le strutture sociali o giuridiche di quell'epoca, chi studia di più l'architettura. Io sono in questo campo e per far fuoco e restringersi su questo campo non resta che guardare la figura di Palladio, che è nato a Padova, come si è saputo tardi con grandi disguidi di chi lo voleva totalmente vicentino fino dalla culla. Ed è nato a Padova proprio nei giorni in cui le armate di Massimiliano entravano in città. Quindi va a lavorare a 12 anni, sappiamo la vita di quest'uomo meraviglioso di temperamento oltre che di ingegno, poi lascia questa bottega di uno scultore qualificato, non si è capito perché l'abbia lasciato, si trasferisce a Vicenza, va nella bottega del Compagni di Pedemuro, la più qualificata impresa edilizia di lì, con ruolo di scalpellino che non è quello di taglia pietra, lo scalpellino è quello che fa i capitelli, le cornici, gli elementi raffinati dell'architettura in pietra, che quindi ha perfetta nozione di questo fenomeno generale. Noi dobbiamo partire con l'idea che Palladio, che ha vissuto l'occupazione di Padova, che si è trasferito a Vicenza, che ha conosciuto il Trissino, quindi ha avuto queste informazioni più avanzate, le informazioni sulla più avanzata cultura romana, che lavora in un'impresa edilizia, conosca questa storia del territorio che si è svolta in grande misura nell'arco della sua stessa vita e che quindi lui sia interprete di questo fenomeno. Cioè tendo con queste affermazioni, più che tendo a dire, vi propongo di considerare che appunto Palladio sia cosciente di questo fenomeno nella sua globalità, perché la lucidità con cui lo interpreta non saprei altrimenti come spiegarla. Naturalmente è il grande successo nella costruzione delle loggi di Vicenza, che lo accredita come un architetto, come dire, ammesso, consentito dalla Repubblica, che dà ai Vicentini uno strumento nuovo per esprimersi. E lui si esprime nella logica di comporre le crisi psicologiche e sociali che ha subito questo ceto politico con la logica imprenditoriale, politica e istituzionale, cioè repubblicana, della civiltà di Venezia. Ho parlato così di Venezia nella sua forma complessiva di governo, anziché parlare dei patrizi veneziani, che in questo scenario, altro non sono che degli attori simili a questo momento, al Saraceno di cui avevamo parlato prima o dei Tiene a Quinto, cioè diventa un fenomeno generalizzato questa, mentre l'architettura palladiana si concentra nella splendida provincia di Vicenza, questo fenomeno del vivere in villa si estende su tutto il territorio della Repubblica perché è espressione di una politica. E ha creato in definitiva anche la struttura economica e imprenditoriale che ha sorretto Venezia probabilmente nell'ultimo secolo, secolo e mezzo della sua vita, quando la sua capacità di penetrazione commerciale nei mercati orientali cominciava poco a poco a scemare. È un fenomeno questo che i veneziani hanno inteso per tempo, da buoni mercanti, quando non circolava la merce se ne rendevano conto subito, per cui gli investimenti finanziari dei veneziani nell'entroteria, nel momento in cui hanno questo straordinario riflusso di capitali che non possono più investire nel commercio, diventa un motore, un acceleratore straordinario di questo processo, al punto che tutto il Veneto diventa un insieme di ville. Patrizzi, la parola stessa ci porta a pensare a nobili, nel senso diciamo antico, chi dalla natura viene portato alla virtù. Sarai nobile se sarai virtuoso. In questo senso l'assetto politico veneziano, l'educazione di questo assetto politico veneziano, ha fornito uomini che hanno potuto creare tutto questo. Sì, salterei la categoria della nobiltà. Tutte le famiglie veneziane sono tutte famiglie di imprenditori, soprattutto nel commercio. La grande potenza di Venezia è di essere divenuta, di essersi costituita come l'anello di congiunzione fra il Medio Oriente e l'Oriente, fra i mercati orientali e il centro Europa. Era lì la sua potenza. Quando ha fatto la quarta crociata in cui ha condotto tutto l'esercito cristiano a conquistare Costantinopoli, Venezia non aveva territorio. Venezia era allora, per trovare un esempio, nella contemporanea in realtà come Wall Street, una cosa che regola l'economia del mondo, ma non è uno Stato. Quel pezzettino lì di Manhattan, prima di essere Stato aveva già in sé tutta questa potenza. Anzi, questa è la vera storia di Venezia. Poi naturalmente ha questa prestigiosa Costituzione, per cui è rimasta l'unica Repubblica in un'Europa dove c'erano soltanto monarchia assoluta. E questa si poteva reggere soltanto con una legislazione terribilmente severa, che partiva dall'unica legge che aveva la Repubblica, che era quella che regolava i possibili conflitti di interesse del Doge e della sua famiglia. È una legge che in Italia non siamo ancora oggi riusciti a fare. E poi invece usava un sistema legislativo tipo common law, che era la forza della credibilità della struttura Venezia nei mercati internazionali. Infatti Sheilock, nella Mercante di Venezia, a Sheilock Shakespeare fa dire che se il giudice sbagliasse questa sentenza ne va della credibilità del sistema giudiziario di Venezia con conseguenze sul piano economico indescrivibili. La giustizia era il simbolo che la civiltà di Venezia coltivava. E c'era un sistema di bilanciamento di poteri per cui fra i 1200, 1500, 1700 patrizi che sedevano nella sala del maggior consiglio c'era una tale combinazione, amalgama di intelligenze, anche di stupidità, di interessi, che il governo veneziano era in qualche maniera moderato dalla mediazione di tutti questi interessi. E da questo deriva la sua straordinaria capacità, che forse deriva anche questo della cultura mercantile, di plasmarsi sui tempi, di essere contemporaneamente, come dicevano allora, una morachia se qualcuno guardasse la figura del Doge, un'oligarchia se uno guarda le sue magistrature più alte o una quasi democrazia se uno guarda al numero dei presenti nella sala del maggior consiglio, che è cinque volte quella del Parlamento italiano prima che si riducessero i suoi numeri. Quindi è una struttura molto complessa, cioè l'ordinamento costituzionale della Repubblica che assorbe tutte le singole figure dei nobili, è forse una delle realizzazioni più alte di questa civiltà millenaria alla fine. Detto questo, possiamo fare un salto dentro una casa, dentro una casa di villa. Io ho scritto recentemente un piccolo libro, lo chiamo Librino in omaggio a un amico editore che lo voleva pubblicare, in cui cerco di descrivere cosa fossero. Oggi c'è la erronea tendenza di considerare che una casa di villa di questa prima fase, che è quella eroica, la villeggiatura viene dopo, viene un secolo dopo, quando si scopre che stare in campagna venendo dalle città, dal chiuso delle città è liberatorio. C'ha infinite qualità ambientali, paesaggistiche, alimentari e soprattutto vigono in campagna le regole severe che impediscono ai patrizi in città, per esempio, di ricevere altri patrizi nella loro casa, cosa assolutamente vietata se non per matrimoni, nozze, funerali, battesimi, con permesso speciale. Cioè la vita a Venezia era regolata da normative severe, per evitare che si formassero consorterie, complotti, accordi preelitorali, lobbies. Per questo non sono avvenuti colpi di stato di quel genere nella Repubblica di Venezia, ma in campagna tutto questo non c'era e questo genera il fenomeno della villeggiatura, ma questo un secolo dopo l'inizio della grande epopea delle ville. Ebbene, che cos'erano queste case? Non erano delle residenze gradevoli o belle o suntuose per una persona ricca che si compiaceva di autorappresentarsi. Perché alcune di queste ville sono in posti quasi sperduti o presso villaggi o paesi di assoluta modestia dal punto di vista della densità della popolazione. Sono dei luoghi in cui si insediano temporaneamente nei mesi estivi, perché nei mesi estivi non c'è la navigazione con l'Oriente. Le mude sono soltanto in primavera e in autunno, sono in andata e ritorno i viaggi in Oriente secondo i movimenti dei venti. Quindi d'estate c'è come un periodo morto in cui un capofamiglia trasporta la sua famiglia in campagna, molto probabilmente anche per mangiare i prodotti agricoli che molte delle locazioni rurali erano pagate in derrate agricole. Quindi era più conveniente prendere la famiglia e portarla dove si produceva il cibo che prendere il cibo uova e latte che facilmente deperiscono e portarla in città dove ne arrivava mezzo. Che cos'è dunque una famiglia? Beh, una famiglia è un nucleo, una famiglia Patrizia è un nucleo di 30-40 persone. La moglie di Alvise Foscari che ha vissuto questa casa, aveva 12 o 14 figli, non si capisce bene perché negli censimenti veneziani non conteggiavano le femmine a volte, quindi generalmente il numero è superiore. Ma solo loro con i genitori erano 15-16 persone. Poi per spaccare la legna, per portare la legna, per macellare il porco, per fare la camicetta, per fare il bucato, per avere un amministratore che poi regola i rapporti con la campagna, il gastaldo per mantenere i rapporti con Venezia, era un nucleo di persone consistenti. Si trasferisce, cioè in villa, il modello della casa veneziana che era un dox portuale, cioè Venezia che è stata per secoli il più grande porto del Mediterraneo orientale. Dove sono a Venezia i dox? Dove sono i magazzini portuali? Dove sono le strutture portuali di questo porto straordinario? Non ce ne sono perché erano le case. Erano le case, i magazzini, i laboratori, i dox, dove viveva tutta la comunità che faceva quel commercio. Certo il mercante che arriva dall'Oriente, ma il facchino che porta le balle e tutta la famiglia, come fosse un castello che contiene tutti, era contenuta da una casa. Ebbene la casa di campagna, come nella sua concezione originaria, nel momento in cui vi è una famiglia, contiene un numero molto elevato di persone. Non è affatto un luogo più umanistico della contemplazione, dell'isolamento, dell'edificazione morale. È un luogo concepito per il miglior uso del suolo, la miglior produttività dell'azienda, l'arricchimento della famiglia e porta con sé tutto il nucleo operativo della famiglia, che è un nucleo consistente di persone. Questi luoghi, cioè, nella loro eccellenza risuonavano di voci, erano pieni di promiscuità, di confusioni, di fusioni insieme di interessi e di capacità diverse. A me piace sottolineare questo aspetto, perché mi piace che questa eccellenza non fosse, questa eccellenza che veniva capita e viene capita da un numero parziale di persone, potesse essere concepita per una funzione che avesse anche quelle promiscuità, quelle intensità di vita, quel ganglio di umani interessi diversificati che era rappresentato dall'azienda. Le famiglie, in sostanza, erano l'equivalente di ciò che oggi sono delle società per azioni, che allora non esistevano. La famiglia era un'impresa, un'azienda ed era, in una concezione anche paternalistica se vuole, tutta riunita entro una determinata casa. Questo spiega la corretta partizione che Palladio fa delle case in tre livelli, dove c'è un livello che è quello terreno che è prevalentemente destinato alle comodità, dice Palladio, della casa, cioè alle funzioni necessarie per la gestione della casa, la ricucina, la cantina, la legnaia, tutto ciò che deve sorreggere questo impianto, questa comunità. Tutti i collaboratori del padrone, Palladio usa la parola padrone, non usa mai signore, mai patrizio, mai nobile, Palladio la chiama la famiglia minuta, ma però è sempre parte della famiglia. Un piano che è quello che oggi si usa dire nobile, che Palladio chiama ordine primo è un piano superiore, che nelle case di Palladio fino a un certo momento sono il granaio. Questo per dimostrare che proprio la casa aveva una funzione di accumulazione del prodotto agricolo. Dopo, siccome Palladio lavora molti anni, questo modello si evolve, si aggiungono le barchesse, si aggiungono i granai, questo sistema si moltiplica, ma all'inizio era un granaio. Ecco, è bello anche cercare di entrare nella logica interna di queste case per non nobilitarle solo in funzione per la bellezza che ci mostrano, per la parte estetica che documenta soltanto la civiltà e il linguaggio di queste persone. Ad esempio, visto che siamo in questa sala, una sala centrale, nell'ottica di Palladio separa tre camere da un lato e tre camere dall'altro lato. Palladio non ha mai fatto più di tre camere e un'unità di tre camere costituisce per Palladio un appartamento e quando fa una casa per due fratelli, come in questo caso, evidentemente è implicito uno è l'appartamento di un fratello, l'altro l'appartamento dell'altro fratello. C'è anche una non tanto sottile pregnanza etica in questo, perché per quanto uno signore sia non ha mai bisogno di più di tre camere. Palladio è molto severo, blocca sul numero di tre e di queste tre camere due sono rettangolari con le medesime proporzioni, una grande e una piccola, ma con le medesime proporzioni armoniche e una intermedia è generalmente quadrata e non segue quel criterio proporzionale e da questo punto di vista è una stanza di crisi, se vogliamo. Le due camere rettangolari sono, una è per così dire il living, dove si vive prevalentemente, l'altra è o lo studio o il luogo dove il padrone mangia da solo. Mai avrebbe mangiato nel Cinquecento uno con i figli e probabilmente neanche con la moglie. Io ho guardato tutti i quadri possibili per vedere se c'era una smentita su questo, ma non c'è. Quello intermedio per incontrare i virtuosi amici, cioè ciò che a Venezia non si poteva fare, ma in Campania se passa uno, poi non aprirgli la porta, questo lo dice anche il Vangelo, viandante, però devono essere virtuosi. C'è già implicitamente la condizione che non possano essere, che venire per un senso di amicizia nel senso latino del termine, dove amicizia comporta un'appartenenza a una medesima schieramento politico. Qui è messa la filia nel senso greco, il rapporto, come dire, di sentimento di amicizia, ma non un rapporto di interessi legati. Beh, è molto interessante come poi dentro le ville questo grande sistema, che abbiamo descritto un po' frettolosamente, in miniatura si riproduce con regole e principi anche etici molto severi. Da molti anni chiediamo una maggiore attenzione da parte delle scuole, dell'università, alla storia della Repubblica di Venezia, da parte altri capitoli della nostra storia, compreso quello anche della emigrazione. L'Associazione Nobilare Regionale Veneta, da molti anni, fa uno splendido lavoro di recupero della storia, di salvo la guardia, di questo patrimonio, con interessanti convegni, seminari, con una splendida rivista che viene diretta da persone che sono di altissima qualità scientifica. Il professor Fracanzani è il grande motore di questa associazione, permettimi di dirlo, perché è così, e ovviamente con un grande gruppo umano che lo segue. Queste associazioni a volte non sono conosciute per il lavoro che fanno, quindi io rendo onore a questa associazione e ringrazio il professor Fracanzani che fin dall'inizio ha dato il patrocinio a nome dell'associazione a questa iniziativa e ha aiutato fattivamente perché possa essere stato fatto. Professor Fracanzani, consigliere della Suprema Corte di Cassazione, già ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Udine, dalla sua fondazione è componente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e agroalimentare, è componente dell'Associazione Italiana di Professori di Diritto Amministrativo e Associazione Italiana di Diritto Urbanistico. Dal 2007 al 2016 è stato chiamato a dirigere l'Istituto di Studi Europei Antonio Rosmini di Bolzano, fin è stato chiamato da tanti Atenei italiani e esteri a delle conferenze, comprese quelle in Sud America, da molti comuni amici. Quindi a te la parola, Marcello Fracanzani. Grazie, grazie. Allora quando elencava tutte queste cose mi veniva da chiedere di chi si stava parlando. Non mi ricordavo di averne fatte così tante e forse non sono vere. L'ora è tardissima, la semiologia dello sguardo mi dice che siete provati e quindi adotterò una tecnica. Allora con Tonci, Antonio Foscari per gli amici Tonci, parliamo insieme in distico ormai da dieci anni. Io ho preparato delle slide senza aver visto la intervista registrata, non sapevo fino all'ultimo che non sarebbe potuto venire, ma vedrete dalle slide che di fatto io sapevo dove sarebbe andato a parare. E noi in questi dieci anni ci punzechiamo su alcuni temi. Lui stavolta ha avuto il privilegio di parlare di più, io però ho il privilegio di parlare per secondo o per ultimo. Ma prima di iniziare a parlare, siccome la buona educazione è il presupposto del diritto e il diritto è quella manifestazione dell'etica che ci consente di stare insieme, mi corre l'obbligo giuridico ma etico e cortese di porre i ringraziamenti. E i primi in quanto all'ospitalità e a quell'aurora che inizia mentre la nottola di Minerva si alza al tramonto e questa aurora che ci guarda da sopra, il primo ringraziamento è sentito, sentitissimo ai padroni di casa, alla padrona di casa che ci rappresenta e che ci accoglie in questa splendida cornice. Il secondo non meno è a chi nell'ospitalità è ospite e quindi all'associazione dell'inesausto tracimante e tellurico Aldo Rosi-Marin che è andato al di qua dell'Atlantico è tornato e quindi è motore, lui sì, immobile, immobile, immobilissimo di tante iniziative, al professore Amendolaggin non dimenticato docente di architettura sia a Venezia che poi a Udine e quindi legato insomma a quell'Ateneo in cui io per dieci anni sono stato professore ordinario, a tutti voi che animati, vedete, da interesse non casuale siete qui stasera invece di essere già al desco e presso di voi. Audaci fortuna Iuvat, questo è il sottotitolo, perché vedete sono d'accordo su tutto con Tonci Foscari salvo che per due cose, lui avete visto glissa sempre, dice no i patrizi no, però se avete fatto caso è perché identifica Venezia quel patriziato, prima alla domanda precisa ha glissato come sempre fa, poi ti viene a dire però che le magistrature erano in mano ai patrizi, che le regole erano fortissime in mano ai patrizi, che i patrizi erano severi con se stessi prima che verso gli altri e che queste erano le condizioni, queste regole ferree per consentire a Venezia di fare quello che ha fatto. La seconda cosa su cui non siamo tanto d'accordo è sull'incipit, perché giustamente lui da grande architetto e storico dell'architettura parte con la nascita di Palladio e quindi avete sentito che anche stavolta lui pone l'incipit del mondo col 1508-1509 con Cambrai, con Giulio II della Rovere, papa terribile, ma altrettanto quanto il suo predecessore che era quell'Alessandro VI Borgia, che non era da meno né per quanto riguarda la guerra né per quanto riguarda sostanzialmente la capacità di tessere intrighi. E allora, vedete, secondo me la situazione va portata un po' prima e dobbiamo andare a vedere perché i patrizi veneziani, o se vogliamo far contento Antonio, Tonci, Foscari, perché Venezia, perché il governo di Venezia saldamente in mano ai patrizi dal 1297, serrata del maggior consiglio, solo coloro che sono nati da quella famiglia tramite giusto matrimonio approvato da una magistratura speciale, possono accedere alle cariche, gli altri e gli altri no. Pianti. La feudalità, i nobili di campagna e i feudatari, come dice lui, e quelli invece hanno il senso della zippe, della zippe germanica, della tribù, di quell'idea di coinonia aristotelica, in cui sostanzialmente il patrimonio indiviso veniva gestito non dal pater familias, tant'è vero che la titolatura era tutti i maschi, et feminis, qui si masculi, erint, semper sintescluse, e quindi con una forma anche di tutela delle donne, che effettivamente il diritto germanico aveva portato ben oltre quello che era il diritto romano. Lui parla di architettura, io mi porto sul mio campo del diritto. Ma andiamo a vedere perché dobbiamo andare prima. Allora, il bello è che il titolo di oggi è Storia in Villa Veneta, ma può essere anche Storia Veneta in Villa. Come è stato fatto la locandina, il Veneta può stare sia con Storia che con Villa. E le due cose si coincidono perché non si può fare una Storia Veneta senza parlare di ville e non ha senso parlare di villa se non si aggiunge il Veneta. proprio per quel distico di cui ci parlava sapientemente Antonio Foscari. Però, vedete, noi non parliamo di mura, come dico sempre, ma di animo. Non parliamo di calce, ma di spirito. Non parliamo di pietre, ma parliamo di uomini. Cioè questa che ci circonda non è, come amano dire gli inglesi, la sede di un fantasma. Ogni castello inglese che si rispetti ha il suo fantasma, altrimenti i turisti non sono contenti. Ma qui le pietre ci parlano. Qui a coloro che hanno orecchie per sentire e intelligenza per capire, le pietre parlano. Le pietre, gli stucchi, le lampade, le proporzioni. Ominis ad hominem proporzio. Quel grande cabalista, grandissimo cabalista che era Palladio. E i suoi successori. Il Mutoni era un cavaliere rosa croce. Non parliamo del Sansovino. Tutti costoro avevano un'idea di numero, che nella rotonda viene elevato a potenza, con tutta quella difficoltà di tentare di iscrivere un cerchio in un quadrato, tutto modulo e cerchi quadrati, cerchi quadrati, cerchi quadrati. Ma la quadratura del cerchio, voi lo sapete, è la cosa più diabolica che ci sia. Più difficile, la cosa che è considerata più difficile, ma che non si nomina, è la prova dell'esistenza di Dio. Immaginatevi quindi cosa vuol dire per un architetto tentare di quadrare il cerchio. È come per un teologo medievale dimostrare l'esistenza di Dio. Di questo noi parliamo oggi. Andiamo avanti. l'architettura. L'architettura non è una scienza, l'architettura è un'arte, è un'arte senza finzioni. Non è un'iscienza, ma un'arte, quella di piegare lo spazio attorno ad una persona, declinarlo sulla sua personalità. Fra tutte le arti è quella che meno consente finzioni. Nessuno si fa cucire un guanto con sei dita o una scarpa a tre numeri più piccola. Così nessuno costruisce una casa che non lo rappresenti. Qui c'è l'anima del committente. E siccome tutte queste case, come era stato detto per la maggior parte, appartenenti a patrizi veneti, denotano lo spirito del patrizio veneto e ci danno l'idea del patriziato, che non è una cosa eminentemente ed esclusivamente elitaria. Non vogliamo dire questo. Anzi, vedremo come è la vera struttura del Veneto. Eccola qua. Tonci ci parla del 1509, ma la madre di tutte le ville venete, viene ritenuta non da me, dalla letteratura, è la villa dal verme ad Agugliaro e siamo nel 1420. Quindi siamo 90 anni, se non 100 anni prima dell'inizio del mondo, secondo Tonci Foscari. E cos'è questa? Beh, la vedete. Questa è la proto-villa veneta. Purtroppo il canale è stato rialzato e quindi adesso abbiamo un argine che non ci permette di vedere che effettivamente questa era sul canale sulla Liona. Andiamo avanti, lo vediamo da un'altra angolatura. Eccola qua. Che cos'è la villa del verme, la madre di tutte le ville venete, uno spicchio di canale grande in mezzo alla campagna. Un fondaco sul canale Liona. Cosa ci diceva Tonci? È la casa, la casa è il magazzino, i docks degli inglesi. E qui lo vediamo perfettamente. Vediamo la trifora veneziana, vediamo sopra, sotto i due archi, con la parte relativamente al fondaco, che era già quindi nel primo Quattrocento un sistema di imprenditorialità nella terraferma. La terraferma è una parola grossissima. Perché vedete, Venezia, 1454, ci dice Alvise Zorzi, di compianta e venerata memoria. Un dominio territoriale che va dall'Isonzo, quindi la zona del Goriziano, la contea di Gorizia, all'Adda, il famoso Adda che supera Renzo Tramaglino per mettersi in salvo. Terre floride produttive nelle quali il mercante veneziano potrà pensare a solidi investimenti, meno vistosi forse, ma più sicuri di quelli del commercio marittimo, specialmente dopo il crollo dell'impero bizantino. È la data tristissima, 53-54, in cui Maometto arriva, poi ci sarà Solimano, il Magnifico, ci saranno una serie di tentativi che porteranno il turco alle porte di Vienna e sarà il Prinza Eugen e di Savoia che difenderà strenuamente la cristianità. C'è stata Lepanto, lo vedremo in mezzo. 1454, già i veneziani sono lì, le terre floride, si dice. Ma perché i veneziani, i patrizi veneti, perché Venezia, il governo, arriva già lì da questa parte? E che cos'è che trova? Ma, insomma, tanto lavoro da fare trova, la toponomastica indica le reali condizioni del territorio. Quello stesso luogo, a Gugliaro, dove c'è Villa del Verme, che abbiamo visto un pezzo di Canal Grande sul canale Liona, un fondaco, viene discritto così in quello stesso anno, il 15 gennaio 1454, per la cronaca era un martedì. Dalla biblioteca capitolare di Vicenza, ci dice che questa è de'infrascripta pecia terre, partim prative, partim paludive, partim boschive. Aquilarium, le anguille, i bisati, quello che c'era. Altro che no. E per quale motivo i veneziani dovevano recarsi a villeggiare, a fare una casa bella? NICHTI. E lì chi c'erano prima? C'erano i feudali? Sì, c'erano i feudali. C'erano i castelli? Non c'erano più già i castelli dal 1404-1405. Perché? Perché è verissimo, Venezia fortissima sul mare, meno sulla terraferma, non consentiva ai signori. È vero il bilanciamento nei processi criminali sono terribili. Il vero processo poi recuperato dal Manzone ci dice quanto la giustizia era amministrata solo per minima parte degli ex signori feudali e quanto invece i processi fossero portati a Venezia con punizioni terribili dai nobili locali, che non riuscivano a più perpetrare quelli che loro ritenevano diritti ma che ormai erano ritenuti degli abusi. e quindi in realtà in quella parte, in questo momento, che effettivamente Venezia impone le distruzioni di castelli. Infatti noi in tutto il dominio non abbiamo castelli. Se voi andate già a Rovereto, bassissimo, trovate subito salendo sull'autobrenno a destra e a sinistra castelli. Andate in Cadore, che è in cima, in cima, in cima, praticamente in Austria, non trovate castelli dalla bassa fino al Cadore. In Friuli trovate castelli solo di quelle famiglie che erano talmente ormai decadute che non erano riuscite a trasformare il castello in villa. È vero, i castelli vengono distrutti, il castello di Brendola c'è scritto venga distrutto finché né tedeschi né spagnoli el possino più doperar. Guai chiudersi dentro, guai fare baluardo. Ed è vero allora, senz'altro, a metà del Cinquecento, fine Cinquecento, nasce la civiltà della villa. I castelli più grandi vengono mantenuti, cittadella, Castelfranco, Est e Montagnana, con una guarnigione. Non più la famiglia che si trincea e che crea sollevazioni popolari, solo distruzione, rasi al suolo. E quindi le ultime mura che abbiamo sono quelle delle guerre Scaligere, Carraresi, Dacamino, Estensi, Gonzaga. Quelle ultime mura trecentesche che servivano sempre meno ad una balistica che ancora non conosceva la polvere da sparo ma già con le gitate aveva capacità di superamento delle mure fossati da renderle inutili, quindi costosi e non produttivi. Ma perché torniamo al punto andare a prendersi dentro il prative, paludive, boschive? Verissimo il magistrato alle acque, verissimo gli incolti. Verissimo, aggiungo, con una forma di tassazione agevolata, chi si prendeva queste terre incolte era esattamente sostenuto. La stessa meccanismo usato, primi del Novecento, per le bonifiche attorno a Eraclea o per le bonifiche delle valli veronesi. Un meccanismo di incentivazione per chi si prendeva gli incolti. Tanto lavoro da fare, la toponomastica indica le reali condizioni del terreno. Anguillara Veneta, Anguilla, Costa Bissara, Bissa, Anguilla, Valli, Levalli, Porto, le localizzate sono tantissime, Levada, uguale lente di argilla solida dove costruire i Bissari, Costa Fabbrica si chiamava, poi Costa Bissara, indica sostanzialmente una quantità di anguille, di porto e di cosa, per cui il lavoro era tantissimo. Perché arrivare in terraferma ai primi del Quattrocento? Perché arrivarci là? Ecco qua i presupposti, sono tre, i primi. La guerra di grado con Aquileia, 1024 inizia, questo che vedete questo signore con una faccia che sembra buona, ma in realtà era cattivissimo, e Popone, patriarca di Aquileia. Lo trovate, questo ritratto, è nella sala del trono del Palazzo Patriarcale di Udine, dove per celebrare la potenza, Aloisio Dolphin, che mi piace tantissimo, che si è messo in un angolino, committente di un giovane tiepolo a cui dà tantissima superficie, perché possa indicare sempre un distico, l'unione vale, la divisione rompe, e serviva a spiegare a Maria Teresa di non rompere questa bellissima unità che era il patriarcato, non avrà buon esito, sappiamo che viene divisa in una arcidiocesi di Udine, con un titolo marchionale, marchese di Rosazzo, e con invece un arcivescovado principesco a Gorizia. I dipinti del tempo sono bellissimi, dovremo parlarne a lungo, nella galleria guardate i piedi dell'angelo, perché il passaggio lì è fantastico, anche al confronto con la gola, la gorge della povera, mi sfugge il nome, la moglie di Abramo, vi vedo preparati in teologia, adesso mi torna, il bellissimo sapere che una donna non può mascherare nelle mani nel collo, e Tiepolo è cattivissimo con questa signora, che dice centenario a cui i denti aperti, dice come posso avere un figlio, e dall'altra parte i piedi, come sono belli i piedi di coloro che sui monti sono portatori di buone notizie e annunciano la pace. I piedi degli angeli sono bellissimi in Tiepolo, e te li mette sempre in prima fila. Popone, quindi che è lì a far vedere la sequenza dei patriarchi, per cui da San Marco si arriva fino al vescovo sedente, arriva a Grado come protettore e ci dà fuoco, consente di stuprare le monache, consente di saccheggiare i monasteri, consente di portare via tutto. lotta fra Grado e Aquileia, l'Aquileia minaccia Grado pesantemente, Venezia rischia fortemente. Le guerre continuano fino alla conquista nel 1420, Venezia è qua, e riesce a portarsi via tutta questa parte qua. Quanto questa era la marca di Verona nel 1250. Pensate quindi quanto piccola era Venezia. Presupposti due, andiamo avanti. La guerra di Chioggia. Arriva addirittura a Genova nel 1378-79. Pietro Emo difende estremamente. Ma per i commerci con il turco, per l'incoronazione del re di Cipro, sono compromessi. Venezia non riesce più a commerciare con l'Oriente perché la difficoltà è fortissima. Il re di Cipro è data ai genovesi. Genova è riuscita addirittura a circondare Chioggia e quindi sostanzialmente, se contate che questa è Pellestrina, e quindi sostanzialmente è alla vecchia capitale, Metamauco, Malamoco, di Venezia. Andiamo avanti. Terzo presupposto. Bisogna, eccolo qua, rendere sicuro il Dogado. Dogado ancora è quella strettissima fascia di terra ferma al ridosso della quella che potremmo essere gronda lagunare. Ma poi abbiamo il Scaligeri e Cararesi che spingono, arrivano, si combattono qua. Visconti ed Estensi. E fino alla dedizione delle città di Verona e Padova, 1405 a marzo e aprile, ai Verona e Padova. I da Camino a Treviso sono già caduti, Rovigo non conta, a Belluno ancora meno. Voi capite quindi che se ancora, nel vent'anni prima, Venezia era a pieno rischio, vent'anni dopo alle due città maggiori, le signorie dei Cararesi e le signorie degli Scaligeri sono collassate e vengono conquistate, gli Scaligeri per estensione vanno ai Visconti e poi questi vengono ceduti, il Cararesi viene sconfitto e tradotto in ceppi, 1405, avete visto prima 1420 tutta la porzione del Friuli, quindi nell'arco di un quarto di secolo, dal 1395 al 1420, quello che avevamo visto nella slide precedente, quella grandissima zona, è tutta Venezia. E bisogna renderla sicura, bisogna renderla sicura. Di tutti gli esempi della dedizione ho preso questo, che è nella sala delle lauree di giurisprudenza Padova, che c'è molto cara, e quindi del Novecento, perché qui c'è Padova con l'università che viene garantita la Patavina Libertas da Venezia, con la giustizia di cui parlava Leone Marciano, con la spada e la bilancia. Sorvolo perché il tempo è tardi, ma le prossime volte che guardate la giustizia fateci caso, perché avete quattro ipotesi. Bilancia sulla sinistra, spada sulla destra. Bilancia sulla sinistra e spada sulla destra. Bilancia sulla destra, spada sulla sinistra. Spada in su, spada in giù. A tutto questo ci sono dei significati ben precisi, che non vi dico stasera, così la prossima volta che facciamo una conferenza con Aldo venite e vi spiego il perché di queste cose. Ma la prossima volta che andate in giro guardate, certe volte la bilancia è alta, la spada è bassa, certe volte è così, certe volte ce l'ha. Allora, escludendo che la giustizia sia mancina, tutto ha un significato. E quindi la libertà, è bene che la libertà degli studi non stia mai nella capitale. Fateci caso negli stati preunitari e anche poi negli stati tedeschi, l'università, proprio perché la libertà è rivoluzionaria, non è mai nella dominante, alla faccia dei patrizi, alla faccia del diritto patrizio. La patavina libertas. E la veneziana cosa? Autoritas o potestas. Andiamo avanti. Bonifica e la palude. Eccolo qua, il lavoro dei monaci benedettini, l'abbazia di Correzola. Eccola qui, la grande attività che ereditano i veneziani. I monaci benedettini già attorno all'anno 1000 hanno cominciato a drenare i canali, a fare quella serie di canali di cui ci parlava Tonci, per cui tutto, come ai primi del 400, era già riconducibile a Rialto. La Liona e il Bisatto, sempre quei sei nomi, canale Bisatto, che già ti dice che cosa c'era dentro, non c'erano certo branzini, consentivano di portare la merce fresca. I canali drenano, e quindi rendono i campi coltivabili, i canali consentono di mantenere sempre il livello alto, perché il drenaggio dei piccoli canali cosiddetti scoli, e non a caso gli scoli hanno sempre il nome di una famiglia. Consentono poi ai canali più grandi la navigabilità dei burci, che trainati dalla coppia di buoi sulla portano avanti, indietro. Ma siamo ai primi del 400. Perché? Perché dopo aver conquistato nell'arco di 25 anni tutto quel territorio grandissimo, e non avendo una forza di terra, l'unica cosa da fare era imporre, ob torto collo, ai patrizi di investire i soldi là. Andiamo avanti? Sto finendo. Scoli per drenare, questo l'abbiamo già detto, viabilità tutto l'anno. I cartigli ce lo spiegano tantissimo, gli scoli, le case e tutto qua. Qui si arrivava direttamente via barca, ma anche a Villa Saraceno si arrivava via barca. Dappertutto si arrivava via barca. Si arrivava via terra, per carità, per terra. Tanto perché è tutto palude. E poi per che cosa? Bruta gente. Ci sono quelli della terraferma e già i veneziani erano andati in laguna proprio per evitare. Passo successivo. Grazie, andiamo velocissimi. Eccolo qua però quello che ci interessa dire. Qui si è un tributo ai patrizi veneti. Qui dobbiamo darlo veramente. E lo diamo da terraferma, e lo diamo dalla feudalità, e lo diamo... Perché l'approccio all'impresa, l'approccio di bonificare questo territorio, di renderlo colto, di renderlo fertile, di renderlo sicuro, di renderlo redditizio, avviene con un ambito imprenditoriale, ma non borghese. Non quello della chiusura. Un animo commerciale, senz'altro ce l'ha detto, sono tutti dei mercanti, ma non bottegaio. Un animo curioso, ma non azzardato. Andiamo avanti. Eccolo qua l'approccio nautico. È l'animo pronto a fare squadra nell'interesse comune, quell'interesse che continuiamo a chiamare, proprio di ciascuno, ma non esclusivo di alcuno. A essere severi con se stessi prima che con gli altri. E questa è la vera forma di autoritas. Non vi è maggiore autorità che l'esempio. I patrizi erano cattivissimi con se stessi. Sbagliavi una cosa. La condanna era esemplare. Per quello è tu con nu e nu con ti, con Leone Marciano. Ma guardatevi un po'. Questo è perché la filosofia della barca. In barca non puoi essere individualista. In barca occorre fare squadra. In barca c'è un interesse comune, eccolo qua, che è imprenditoriale, sì, ma non è borghese. È commerciale, sì, ma non è bottegaio. È solidaristico. Questa è la grandezza. E allora che cosa ha la nostra imprenditoria del nord-est, il modello del nord-est che tanto rimpiangiamo di 30-40 anni fa e che cerchiamo di rifar partire con tante difficoltà. Era tutto qua. è un modello in cui la capacità individuale, la curiosità individuale, fa sistema e fa squadra. Come si deve fare in barca? Dove la sopravvivenza è data dalla barca. O tutti o nessuno. O todos o nada. Andiamo avanti. Che cosa ci guadagno? Guardate, noi che trasudiamo l'umanesimo siamo ormai permeati dal puritanesimo perbenista, calvinista e farisaico dell'I care. Ormai la domanda è che cosa ci guadagno? Ma no, ma che cosa ci guadagno non è una domanda. È una falsa domanda. Profitto o giustizia? L'azione conviene oggi ma non domani. Se faccio un ragione su cosa ci guadagno, oggi lo faccio e domani no. Perché magari oggi ci guadagno e domani no. Oggi le zucchine stanno a uno, domani stanno a due. Ma questa è la logica del mercato, del guadagno. Allora vendo domani, non oggi, eccetera. Ecco l'ottica bottegaia del che cosa ci guadagno. È un principio o è una convenienza? Agisco perché sono convinto dell'azione, esercito il potere, grande o piccolo che sia, e mi assumo la responsabilità. Ecco la severità, ecco l'auctoritas. La prossima volta che vi fate ma che cosa ci guadagno, o che sentite uno che vi dice cosa ci guadagno, lo guardate negli occhi e dice ma tu ragioni per principio o per convenienze? Perché se ragioni per convenienze hai un prezzo e sai la novità. Aspetto e sono sicuro che il tuo prezzo scade e domani posso comprarti con meno. Fate questa prova. E guardate poi, chi ragiona e dice ma cosa ci guadagno, guardate che cos'è. Se non è un debole di carattere, colui che cerca il consenso degli altri o evita il biasimo degli altri. Andiamo avanti. Le mura sono testimone dell'animo. Porre la parte migliore di sé sopra la parte peggiore di sé, Platone, non vi è maggior signoria che la padronanza di sé medesimo, Leonardo da Vinci. Chi era doge nel periodo di storia che vi ho raccontato? Eccolo qua, è lui. E paghiamo un tributo a chi è della medesima agnazione e che è qui in prima fila, cugino di Tonci Foscari. Francesco Foscari, il doge più longevo, il dogado più lungo di tutta la storia. E' arrivato nel 23, che era a doge, è morto 84 anni, quindi lui aveva già iniziato a vedere l'attività politica prima delle dedizioni. E quindi ha assistito, lui sì, a vedere che il giorno prima il Carrarese aveva già ripreso Treviso, mercanteggiando con il duca d'Austria, e che il giorno dopo invece si erano trovati con quel famoso 1454, quando siamo partiti qui il 57, lui finì, viene deposto, muore poco dopo, l'estensione dall'Adda, l'Isonzo. E perché? Perché il Loredan, nemico intimo e giurato da lui, il figlio di Loredan dell'ammiraglio, con il Consiglio dei Dieci, due volte rifiutò di offrire dimissioni e le rifiutarono, una terza volta gliele sollecitarono, non le volle dare, la parte migliore di sé esercitò il potere e si assunse la responsabilità. Da allora poi si modificò il Consiglio dei Dieci e quindi si disse che doveva evitare gli scandali, non crearne. E questa determinazione, il porre la parte migliore di sé, il piglio del navigatore, non vi cito la famosa frase dantesca, ausata ed abusata da chi la legge poco e la intende meno, perché il significato è un altro, del plus ultra o del non plus ultra. Ricordo che il plus ultra è il motto dell'onore del toson d'oro, l'onore di efficienza più alta che si potesse dare. E ricordo che effettivamente con lo spirito del navigante e con quello spirito imprenditoriale, ma non borghese, mercantile, ma non bottegaio, grande è stata la Repubblica. Ora noi questo ce lo dobbiamo ricordare, andiamo avanti con l'ultima, perché il bello è che le radici profonde non gelano, come ci ricorda la bandiera Contarini, e se noi qua oggi stiamo, possibliamo parlare e abbiamo la libertà di parola, non è per la modernità, non è per la rivoluzione francese, non è per l'infame Corso che è stato pur nominato nome per nome, a casa nostra non si nomina quel nome, un po' davanti. Ecco, se noi possiamo oggi parlare è perché nel 1571 c'è stata risparmiata una forma di assolutismo teologico che si traduce in un assolutismo giuridico. E perché, e qui sì, il moto aristocratico repubblicano della auctoritas, che non c'è maggiore autorità dell'esempio, è ciò che ci consente oggi di parlare e di poter essere qui, la vera ragione per la quale noi siamo, per la quale noi siamo qui. Vedete quante cose ci dicono queste mura. L'ora è tarda, io vi ringrazio per avermi dato l'occasione di ripensare a queste cose e per avermi dato la prova che è possibile ridirle e che quindi lo spirito di Lepanto ancora è qui e che l'augurio che vi faccio è che le vostre radici, che le nostre radici profonde ci sono, cercatele, non gelino e non gelino mai. Grazie. 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 Grazie.